Iniziato dopo la delibera della giunta comunale e dopo il sostegno che è stato costruito nell'ambito del consiglio regionale con i parlamentari mantovani per fare in modo che anche il consiglio regionale della regione Lombardia possa approvare il sostegno della regione alla candidatura di Mantova, abbiamo iniziato a fare degli incontri, oggi li abbiamo fatti con il mondo politico istituzionale, quindi parlamentari, nazionali, regionali, il Presidente della provincia, li abbiamo già fatti prima di questo con i vertici di alcune associazioni o comunque rappresentanze del mondo culturale mantovano, li abbiamo fatti con i rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e quindi stiamo diffondendo la voglia di sentirsi tutti i primi attori per questa avventura per la città di Manto. Ci saranno altri passaggi che coinvolgeranno tutta la città perché questa è una partita molto importante che potrà essere giocata ed eventualmente vinta o comunque giocata facendo bella figura se ci sarà tutta la città che sarà coinvolta. La candidatura come quella che è stata oggetto oggi di capitale europea della cultura per il 2019 perché il 2019 sarà l'anno che spetterà ad una delle città italiane, non è solo un contributo ma richiede un lavoro di squadra molto più ampio rispetto solo alla città che verrà, quindi all'istituzione della città che verrà candidato, nella dimostrazione delle tante candidature che vediamo anche oggi come capitale europea della cultura, devo dire che il caso, uno tra i casi più emblematici è appunto quello di San Sebastro nel 2016 dove c'è un vero e proprio coinvolgimento territoriale rispetto al centro che sarà quello interessato per il 2016 per la Spagna. Credo che quindi serva un lavoro più ampio, un lavoro di coinvolgimento territoriale rispetto al fulcro che dovrà essere la proposta che viene fatta sulla città. Oggi erano presenti diverse istituzioni, diverso livello e grado, vi è la necessità per una candidatura di questo tipo, di un coinvolgimento anche di tutta la parte economica del sistema produttivo mantovano, di tanti partner perché quella candidatura sarà la candidatura che potrebbe vedere questa città, la città di riferimento europeo nel 2019 per la cultura. E quindi è un lavoro molto impegnativo, un lavoro che richiede l'analisi anche di un budget, di iniziative, obiettivi ben precisi. Il gioco è molto ampio, le candidature italiane sono già tante e quindi anche lì la partita sarà una partita complessa e quindi la proposta deve essere veramente importante e di altissimo livello. Credo che Mantua possa giocare una partita importante sul modello culturale, il territorio mantovano, è l'unico territorio rispetto alle candidature che oggi noi conosciamo che ha la presenza di veri e propri distretti culturali, che credo che sia uno dei valori aggiunti che Mantua può giocare insieme alla sua grande ed importante parte monumentale e soprattutto anche ad una serie di caratteristiche di questo territorio che potrebbero essere estremamente attrattive, partendo dal riconoscimento UNESCO ai borghi e quindi al sistema di rete che da Mantua entra nel territorio e dal territorio che viene verso Mantua. E quindi credo che se il lavoro verrà condotto in questo modo una buona proposta potrà essere formulata. Mantua se la gioca con una mozione che abbiamo presentato per iniziative del consigliere Parolini, mia, di Maccari e di Pavesi, quindi diciamo tutte le rappresentanze mantovane hanno contribuito a costruire una mozione che andrà in discussione prossimamente in Consiglio regionale. Credo che in Mantua si possa giocare certamente alla pari con Bergamo questa carta importante. Noi abbiamo una città straordinaria, abbiamo una città profondamente radicata nel vissuto culturale anche con iniziative importanti a livello nazionale e internazionale, quindi credo che ce la possiamo giocare tranquillamente. Ci sono tante altre candidature che sono molto forti, ma a Mantua se la gioca la pari. L'incontro è andato positivamente, ci sembra questo il modo corretto per procedere unitariamente. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità ad affiancarci alle istituzioni locali, a partire dal Comune di Mantua per raggiungere questo risultato. Non c'è dubbio che partiamo un po' lunghi, un po' in ritardo e tuttavia i tempi ci consentono in ogni caso di adoperarci per questa causa comune. Diciamo che nei confronti del Sindaco abbiamo peraltro evidenziato che su tutta una serie di temi sarebbe opportuno procedere in questo modo, facendo un po' di gioco di squadra, poiché Mantua ha bisogno, su alcune grandi questioni, ad esempio questa, di mettere insieme parlamentari, consiglieri regionali, istituzioni locali, mondo economico per fare lobby e per avere più massa critica nelle rivendicazioni nei confronti degli altri livelli istituzionali. Ci auguriamo che questo sia solamente la prima di una serie di incontri finalizzati a portare maggior beneficio e maggiori risultati alla nostra realtà.